Inizia con una sconfitta la FIBA Europe Cup per l'Epicasa Brindisi che perde con gli ucraini del Budivennik di Kiev 74-70. Una gara non bella disputata dai biancazzurri di Koši Vitucci che hanno dovuto sempre inseguire i gialloblumi messi in campo dal tecnico Plekanov, sicuramente più grossi e più precisi al tiro. Già dal primo quarto si capisce che Barnella e compagni fanno fatica. Perkins è l'unico da trovare la via del canestro, supportato a sprazzi da Reid. Budivennik è aggressiva in difesa, più ordinata in attacco e tira meglio e alla prima sirena sono otto i punti di ritardo per i pugliesi 21-13 nel secondo tempino. Koši Vitucci trova il quintetto che può riaprire la gara, Risma prova a trascinare l'Epicasa ma Godwin e Beranemeskel hanno la mano calda e la pausa lunga, Kiev ha una doppia cifra di vantaggio 43-30. Quando si torna in campo si vede una New Basket che tenta la reazione, il Budivennik va in confusione ma gestisce il punteggio. Al trentesimo sono sempre gli ospiti avanti, 57-51. Nell'ultimo quarto è sempre la squadra di Valdri Plekanov a comandare con Brindisi che insegue. Ci prova Reid con l'aiuto di Perkins, a sprazzi ha anche un bar nel tutto cuore ma gli ucraini ci mettono più intensità. Neanche il tempo di recuperare le energie che già bisogna preparare la sfida di campionato in programma domenica nel forum di Assago quando Brindisi affronterà i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano.